Una coppia giovane che da poco tempo si trovava in Italia. Due giovani che avevano deciso di vivere insieme e di affrontare fianco a fianco la vita da immigrati in un paese straniero. Ma dietro l'apparenza di una vita di coppia normale si celava la tragedia di una ragazza di appena 16 anni che veniva appicchiata selvaggiamente dal suo convivente di quasi 22 anni che spesso l'ha mandata in ospedale. L'uomo, Giorgio Catalin Bondaret, le praticava addirittura una sorta di elettroshock legandole le mani dietro la schiena e collegando poi delle rudimentali manette e dei cavi alla presa elettrica. Una vera e propria tortura, quella che l'uomo manesco e violento con punte di vero e proprio sadismo infliggeva alla giovane compagna. La picchiava spesso con colpi di cintura alle braccia, le dava calci in bocca e le aveva rotto dei denti, calci alla schiena e dalla pancia, schiaffi al volto e colpi alle gambe con dei tubi di ferro. Quando la polizia è intervenuta, su richiesta dei medici dell'ospedale di Comiso, dove la ragazza era arrivata per le cure, la giovane aveva ferite in tutto il corpo con una frattura alla costola, un dente rotto, echimosi ed ustioni. Erano stati i familiari, la madre di una sorella, di intervenire per sottrarla dalle grinfie del suo atroce compagno ed accompagnarle in ospedale. La ragazza guarirà in 25 giorni. Bondaretta è stato rinchiuso nel carcere di Ragusa. Il fascicolo è stato affidato al sostituto procuratore Claudia Maone. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia.